Passo subito la parola a Tiziano Pesce, che è il presidente nazionale della UISP, che appunto ci parlerà anche di questo ambizioso progetto. Grazie. Grazie Eric, grazie direttore Corazza, un caro saluto a tutte e a tutti, un ringraziamento a Pietro Barbieri e un ringraziamento e un saluto particolarmente sentito al ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando. Mi permetterà anche un grazie Andrea per l'amicizia personale e per la vicinanza anche non formale del ministro Orlando alla nostra associazione, alla UISP, a tutto il terzo settore, avendo anche mantenuto in sé proprio anche la delega al terzo settore, in un momento particolare, tranquillizzo il ministro, non parleremo di riforme legislative, di percorsi di armonizzazione, di tutto quello che abbiamo anche, come dire, ancora sul tavolo in tema di lavoro sportivo. Tante questioni per cui, al di là della battuta, io colgo l'occasione per ringraziarlo, al di là di ogni formalità, per l'attenzione che il ministro, il ministero, la direzione generale, il terzo settore sta mettendo su questo percorso, non ancora sappiamo concluso, e per sostenere anche l'armonizzazione normativa fra sistema sportivo e terzo settore. Eric ha già inquadrato l'appuntamento di oggi, per noi è molto importante, è molto importante svolgerlo in questa sede, quindi veramente un ringraziamento all'ufficio in Italia del Parlamento Europeo, a tutti i relatori, parlamentari che si susseguiranno. Progetto Sport per tutti. Il titolo, diciamo, è semplice, ovviamente richiama il nostro, lo sviluppo del nostro acronimo, WISP, ma è un progetto, come diceva Eric, molto, molto ambizioso. Rete di collaborazioni e di iniziative per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid. Che si, diciamo così, integra, intreccia molto bene con il parere d'iniziativa che lo scorso marzo l'Assemblea del CESE ha approvato all'unanimità e che ha visto appunto Pietro Barbieri, relatore, Pietro Barbieri componente del CESE, vicepresidente del gruppo 3, l'area di rappresentanza dedicata al sociale. E lo ha già detto Enrico Giuseppe, è un progetto che si realizzerà in 15 regioni d'Italia, che coinvolgerà 26 comitati territoriali, anche io ovviamente faccio un saluto doveroso a tutti i nostri dirigenti che ci stanno anche seguendo in questo momento. Network molto vasto, quindi ovviamente il rapporto con il territorio, col sistema delle università, a partire dal network di Unisport, rappresentanze poi sociali locali, forum del terzo settore, ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, il sistema ANCI, gli enti locali, le aziende sanitarie. E ovviamente il sostegno e la collaborazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che finanzia questo progetto nell'ambito dell'avviso 2-2020, ex articolo 72 del decreto legislativo 117-2017, conosciuto ormai da tutti come codice del terzo settore. Dicevamo progetto ambizioso che si inserisce tra le opportunità che come associazione abbiamo voluto da subito cogliere, proprio accettando le nuove sfide degli istituti del codice del terzo settore, le opportunità di finanziamento appunto attraverso i fondi ministeriali previsti per sostenere gli enti del terzo settore. Riteniamo, ecco, questo progetto una proposta progettuale innovativa, nel frattempo salutiamo il presidente del CONI Giovanni Malagò che ci ha raggiunti, un progetto che guarda, ecco, diciamo, con anche una nuova consapevolezza all'Europa, alle politiche sociali e sportive dell'Unione, attraverso l'attivazione di una piattaforma di cosviluppo e di azioni che avranno un approccio duale, utile, riteniamo, sia per rispondere alle problematiche evidenti create dalla crisi Covid, sia per rendere lo sport e l'attività fisica un elemento, diciamo, sistemico, ecco, nell'ambito dei processi di sviluppo e coesione delle, coesione attivate nei territori. Dopo il lungo periodo della pandemia, da cui ancora non siamo usciti del tutto, che ha determinato, lo sappiamo tutti, un grave impatto su tutta la filiera dello sport e dell'associazionismo sportivo di base in particolare, potremmo ovviamente aggiungere le successive crisi che si sono aggiunte, la guerra in Ucraina, le crisi energetiche e ambientali, ecco, riteniamo sia assolutamente necessario un approccio nuovo, strategico, per rilanciare e valorizzare il ruolo dello sport e dell'attività fisica, con l'obiettivo di arrivare a rafforzare, ecco, strategie di sviluppo economico e sociale, occupazionale, intrecciando legami intersettoriali sempre più ampi, in particolare con la salute pubblica, l'istruzione, la tutela dell'ambiente, riprogrammando, diciamo così, in tal senso, politiche e interventi di welfare. Come rete associativa nazionale WISP, un altro, diciamo, riconoscimento giuridico che ci arriva dalla riforma del terzo settore, ecco, crediamo con molta umiltà di portare in dote un patrimonio collettivo di esperienze e competenze, maturate ogni giorno sul territorio, che partono appunto dallo sport sociale, ma che attraversano politiche che si occupano appunto di diritti, di salute, di ambiente, di rigenerazione urbana, di uguaglianza di genere, di educazione, di interculturalità, di inclusione, ancora di beni comuni, di sviluppo economico, di lavoro, e siamo appunto convinti che queste esperienze possano, debbano essere sempre più protagoniste di nuovi modelli di innovazione attraverso lo sport e lo sport sociale. C'è tutto il tema poi del contrasto alle disuguaglianze, alla sedentarietà, il cui costo sociale e sanitario, come risultato anche dalla recente indagine WISP-Svimez, sostenuta da sport e salute, ha impatti sempre più negativi. Velocemente sul progetto Sport per Tutti, perché poi avremo, diciamo, una presentazione che entrerà molto nel merito. Un progetto che si basa sostanzialmente su tre obiettivi fondamentali. Rendere le città, i nostri centri urbani, insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico. Attraverso l'adozione di un modello che è teso a valorizzare proprio l'emersione di un'elaborazione di innovazione sociale. Alcune azioni, ecco, molto importanti. Una azione nazionale che coinvolgerà tutti i comitati regionali, di Living Lab, per valorizzare lo sport e l'attività fisica, quali strumenti prioritari per supportare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 20 e 30 delle politiche di coesione. Basata appunto sulla valorizzazione della dimensione sociale dello sport, sulla dimensione ambientale, sulla dimensione economica dello sport. Un laboratorio per arrivare alla configurazione di una figura cosiddetta animatore sportivo territoriale, che possa collaborare con gli enti locali, con gli enti pubblici, con particolare attenzione ai soggetti più a rischio di esclusione. L'istituzione di un cosiddetto voucher sport per tutti, che possa sostenere, grazie alle risorse messe a disposizione dal Ministero, proprio i soggetti più a rischio di esclusione dalle attività sportive. E poi ci teniamo molto a questa innovazione, il filone WISP for Sustainability, sulla mobilità per andare a promuovere, ecco, iniziative che aumentino l'impatto dello sport e dell'attività fisica sui processi di sviluppo e di regenerazione urbana sostenibile. E poi un'azione nell'azione sul tema della mobilità, andremo a coinvolgere tre impianti sportivi di tre città importanti come Bologna, Roma e Bari, per andare a misurare l'impatto e per andare soprattutto a realizzare, a redare delle linee di indirizzo per la mobilità sostenibile e delle linee che andranno ad esaminare, diciamo, a entrare nel merito del tema della mobilità sostenibile e dolce, casa sport, scuola sport, lavoro sport. Arriveremo ad incentivare gli utenti ad accedere agli impianti, ad arrivare agli impianti selezionati tramite mobilità sostenibile e dolci e andremo a misurare questo attraverso una piattaforma che andrà a contabilizzare i chilometri percorsi per raggiungere questi impianti attraverso, appunto, mobilità sostenibile e dolci con anche un riconoscimento economico. Su questo ringrazio anche i tecnici della società Simurg che hanno già fatto i sopralluoghi in questi impianti e sono pronti con noi per partire con questo progetto. Dicevo prima, è un percorso che si va sicuramente ad integrare con il parere di iniziativa del CESE. Abbiamo speso, come dire, molte energie in questo percorso. Un ringraziamento, ovviamente, ancora a Pietro Barbieri, a tutto il Comitato Economico Sociale Europeo. Sono arrivate delle raccomandazioni importanti per la stessa Unione Europea e per gli Stati membri. Oggi, come dire, riparte un nostro percorso di coinvolgimento di tutte le istituzioni per far sì che quelle raccomandazioni del parere possano, ecco, trovare messa a terra in tutte le istituzioni nazionali nel rapporto anche con le regioni. Mi fermo qua. Ovviamente gli spunti sarebbero tanti. Ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti che ha accettato l'invito qua con noi oggi. Ovviamente la stampa che ci aiuterà a promuovere questo progetto ambizioso e ancora un grande, grande ringraziamento al Ministro Orlando e ancora un caro saluto a Giovanni Malagò, presidente del CONI. Grazie. Grazie.